Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi vi mostrerò il video su come vado a realizzare queste tre nail art. Ho fatto tutto praticamente tranne l'unicorno. Questo video è in collaborazione con il canale YouTube di una mia collega, Love Li Vale, che vi invito di andare a guardare in quanto anche lei ha realizzato un video su delle nail art a tema rainbow. Ci siamo voluti cimentare in queste nail art, visto la primavera io ho utilizzato per esempio dei colori pastello, sicuramente anche lei, quindi secondo me i colori ideali per questa stagione, anche perché sono letteralmente i miei colori preferiti. Quindi ragazze, vi invito ad iscrivervi anche al suo canale. Per prima nail art sono andato a realizzare l'arcobaleno con colori pastello, per cui ho steso una base semipermanente color naturale, ho polimerizzato e ho bufferizzato dopo. Su di una cartina oleata ho messo i colori che mi servivano e con un pennellino ultra sottile andrò a ricreare delle linee sottili. In totale farò due linee per colore, però naturalmente voi potete anche farne una per colore e poi ricominciare da capo una volta che avete finito il cerchio. Quello che vi consiglio io ragazze, ogni qualvolta andrete a finire una linea, andare a bloccare il colore in lampada per 10 secondi, in modo che se doveste sbagliare non andrete a cancellare anche la linea precedente. Altrimenti ogni volta sarebbe un macello, si dovrebbe ricominciare sempre da capo. Io ho utilizzato principalmente la nuova collezione di Le Femme Professionelle Spring Summer, solo che sono sincera, ho dimenticato di registrare la clip in cui andavo a depositare i colori sulla cartina. Però i colori sono tutti quelli tranne il lilla che è di Dualuna, mentre l'ultimo verdino è il verde pastello incanto di Passione Unghie. Come potete vedere ragazze, i passaggi sono tutti uguali, scusate le linee poco precise, però ripeto non sono una maestra in nail art, anzi, sott'altro. Quindi le faccio un po' come le so fare. E comunque faccio lo stesso procedimento per tutti i colori, quindi vado a fare due linee per colore. E ad ogni linea vado a polimerizzare. Approfitto di questo tempo che vi mostro la nail art e per ricordarvi, se non l'aveste ancora fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube e di seguirmi sui miei social in modo da rimanere sempre aggiornate sulle anteprime dei video che usciranno. Ed ovviamente ragazze, se avete qualcosa da chiedermi, qualche dubbio o volete sapere qualcosa, mi mandate un messaggio, senz'altro risponderò a tutte. Quindi qui giù nell'info box vi lascerò il link di Instagram e Facebook. Finito il tempo di polimerizzazione, questo sarà il risultato finale. Io vado a prendere una polvere aurora e la vado a picchiettare e a passare su tutta la nail art in modo da renderla un po' più unicornosa. Scusate, io uso spesso questo termine perché veramente io amo gli unicorni. Naturalmente dopo aver applicato la polvere aurora andiamo a resigillare. Io per sigillare questo genere di effetti ragazze utilizzo un top adatto solo per questo e che ho preso solamente per questo genere di lavoro altrimenti rischieremo, nel caso in cui la cliente volesse un monocolore di andare a appiccicare sopra dei glitterini magari degli effetti che avremmo messo in precedenza. Polimerizzo 60 secondi e anche questa è finita. Adesso passiamo alla nail art effetto zucchero sfumata. Questa credo che sia quella che amo di più in assoluto. Io vado a prendere nuovamente i colori della collezione Spring Summer di La Femme Professionelle e li vado tutti e tre ad applicare sulla tip. Ragazzi, onestamente io li avrei lasciati anche in questo modo perché sembra un gelato praticamente. Comunque, ad ogni modo vado a prendere il mio pennellino per le sfumature e inizio a fare dei movimenti da destra verso sinistra per andare a mescolare i colori. Ogni intanto vado a pulire il pennello in modo che non si sporchino i colori piuttosto che mischiarsi. Io non so come voi ragazze fate lo shade però io mi trovo veramente bene con questo metodo. Una volta che sono soddisfatta di questo risultato vado a mettere in lampada 60 secondi e vado dopo a passare nuovamente il colore e rifare la sfumatura. Quindi andiamo nuovamente a fare gli stessi passaggi che abbiamo fatto prima. Applico nuovamente il colore sulle tre sezioni della tip e rifaccio la mia sfumatura. Ragazze, è ovvio che io sto utilizzando questi colori ma voi potete andare a realizzare la sfumatura dei colori che più preferite. I vostri colori preferiti invece quali sono? Perché non me lo scrivete qui sotto nei commenti? Vi raccomando ragazze ogni tanto andate a pulire il pennellino perché è fondamentale. Come potete vedere io ho sfumato prima l'azzurro con il rosa dopo ho pulito il pennello e ho sfumato il rosa con il pesca. Credo che sia. Una volta che la sfumatura ottenuta ci soddisfa io aspetto qualche secondo perché il colore si autolivella e poi vado a polimerizzare in lampada 30 secondi. Dopodiché prendo il mio lucido senza dispersione e lo vado ad applicare non troppo tirato vi raccomando perché adesso dovremo andare a mettere l'effetto zucchero. Scegliete quello che più preferite ovviamente sempre a vostro gusto. Io ho utilizzato il Sunny di Passione Unghie perché lo trovo fantastico. Cioè io tutti i sugar effect di Passione Unghie li adoro. Con uno spingicuticole comincio ad applicare il prodotto sul sigillante non polimerizzato in modo che si attacchi perfettamente. Vi raccomando ragazze di non lasciare assolutissimamente parti scoperte altrimenti una volta polimerizzato sarà un brutto effetto da vedere. Non vi preoccupate mettete più quanto prodotto possibile se è il caso mettete anche un foglio di carta sotto in modo da poter recuperare il 100% della polvere così non ci saranno sprechi. Io mi assicuro ovviamente che non ci siano delle parti scoperte infatti immergo anche la dip. Molto spesso faccio anche così con la cliente e faccio mettere la punta dentro il glitter così sono sicura che sarà ben coperta. Vado a togliere l'eccesso picchiettando la tip e ragazze guardate che effetto meraviglioso. Io in modo che l'effetto zucchero duri di più col polpastrello vado a picchiettare così il glitterino affonderà sul sigillante non polimerizzato. Dopodiché 60 secondi in lampada e con un pennellino morbido vado a togliere l'eccesso e anche questo effetto è finito. Ragazze riprendo nuovamente questi colori si utilizzo di nuovo questi perché li amo veramente con tutta me stessa riesco a fare le sfumature dei colori che più mi piacciono essendo pastello li adoro. Non so se avete lo stesso mio problema però ragazze con questi pelucchi che sono praticamente ovunque sono fastidiosissimi anche perché se non ce ne accorgiamo e andiamo a polimerizzare si vedrà quel pelucchio in rilievo che è veramente bruttissimo. Una volta applicato il colore andiamo a riprendere il nostro pennellino per le sfumature e andiamo a creare anche in questo caso una sfumatura facendo sempre dei movimenti dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto in modo che i colori si mischino per bene. Se siete arrivati a questo punto del video ragazze commentate con l'emoticon dell'arcobaleno. Ho tenuto l'effetto desiderato andiamo ad aspettare qualche secondo il tempo che il colore si autolivelli andiamo in lampada 30 secondi. Dopodiché ripetiamo nuovamente quello che abbiamo fatto prima quindi mettiamo nuovamente i colori e col pennellino per le sfumature sfumiamo di nuovo in modo da intensificare il colore. Ragazze purtroppo mi si era staccato il telefono per cui non ho ripreso mentre ho rifatto la sfumatura. Comunque bisogna fare quello che abbiamo fatto prima niente di più. Adesso vado a prendere il mio sigillante e lo vado a mettere al centro della tip così da poter appiccicare i brillantini e i glitterini che andiamo a prendere. Io ho scelto l'effetto zucchero di passione unghie e questi qua sempre di passione unghie con diverse dimensioni. Questi sono eccezionali secondo me perché brillano veramente tantissimo e cambiano colore peraltro sotto i raggi UV. Io li ho disposti in verticale dopodiché sono andata in lampada a polimerizzare 30 secondi. Dopodiché prendo il mio top senza dispersione e lo vado ad applicare su tutta l'unghio in questo caso la tip. E anche questa nail art è finita. Niente ragazze, vi ho mostrato questo breve tutorial su come vado a realizzare queste nail art. Ne sarei molto felice se ci provaste anche voi e mi mandaste le foto. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto. Anche per oggi il tutorial finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto e sia stato chiaro. Noi ci vediamo prestissimo ad un prossimo video. Ciao!